Un gesto clamoroso che tradisce un certo grado di nervosismo da parte di Tommaso Trussardi, che ha infatti defollowato Michelle Unziker e Aurora Ramazzotti sui social. Tutto ciò è accaduto dopo la messa in onda di Michelle Impossible, la nuova trasmissione condotta da Michelle Unziker. Durante la puntata infatti Michelle ha baciato Eros e questo dettaglio ha subito infiammato il gossip. Eppure Tommaso non è molto attivo sui social ma dopo il gesto ha deciso subito di non seguire più l'ex moglie. Infatti in una recente intervista proprio Trussardi aveva mostrato una nota di dissenso nei confronti di Eros. Meglio che si stia al suo posto aveva detto, richiamando alla memoria l'occasione in cui Eros Ramazzotti aveva mancato di rispetto a Michelle. Adesso il rampollo della famiglia Trussardi sembra nutrire non poco rancore nei confronti della sua ex famiglia. Chissà se i due riusciranno a mantenere un rapporto almeno per i figli. Grazie per la visione! Grazie per la visione!